Io stavo dicendo che anche se fosse vera l'accusa e secondo me non è assolutamente, è totalmente campata per aria, non sarebbe infamante il fatto in sé, secondo me per le accuse infamanti un politico deve rinunciare alla prescrizione. Su questo è un fatto tecnico, sapeva, non sapeva, Genchi lo sapeva, sono dettagli che non hanno nessuna importanza, secondo me è impossibile sapere, secondo me vedendo un numero è impossibile sapere di chi è, secondo Mastella uno deve avere arti divinatorie, ho letto anche la sua memoria difensiva ma non mi ha convinto. No, l'avvocato mi ha detto che hai chiesto, vedi la memoria che ha fatto, non il mio avvocato, quello che ha fatto è quello che ha fatto i carabinieri, quello che ha fatto i carabinieri di Marco. Io non sto parlando, io questa sera ho detto che noi ci siamo occupati del caso De Magistris perché era un caso unico in Italia, io non ho mai visto un pubblico ministero che riceve due ispezioni da due governi successivi, 117 interrogazioni parlamentari, il ministro della giustizia di cui si sta occupando De Magistris chiede il suo trasferimento, dopodiché il suo procuratore capo, ma mi lasci parlare un attimo, altrimenti non si può andare. Dopo che ho mandato l'ispezione, non prima caro Marco, dopo che ho mandato l'ispezione. Si stava occupando di lei, ho detto che si stava occupando di lei, ho detto che si stava occupando di lei e lei ha chiesto il suo trasferimento, poi il CSM l'ha convocato, poi hanno cacciato la Forleo perché l'ha difeso, poi hanno cacciato i tre magistrati che indagavano su Catanzaro. Io non ho mai visto un caso del genere, purtroppo aspetto ancora adesso di sapere se quello che lei dice sulla capacità o meno di De Magistris come magistrato è vera o non è vera. No, non lo sapremo mai perché lei sta parlando, ma mi lasci finire una frase, se no io vado al posto e parla lei. Io le sto dicendo che per sapere se un magistrato è bravo o non è bravo, bisogna che la sua inchiesta la concluda lui. Ma c'erano altre prima. Se gliele scippano tutte e tre le inchieste e le conclude un altro, si chiamavano Toghe Lucane, Poseidone e Why Not, gliel'hanno fottute tutte e tre, le ha concluse un altro, mi permetterà di dire che se le conclude un altro, io non lo so se De Magistris ha fatto bene o ha fatto male. Ma se ci stanno i giudici dopo il PM, ma perché voi sono tascuri, non sono i PM, per fortuna stanno anche i giudici, ci sono i giudici che hanno detto così, non i PM, i giudici hanno sentito di concludere che era così, che ha sbagliato tutto, non i PM, i giudici hanno sentito di concludere che non è nemmeno così, i giudici, questo dico, non che lei è colpevole e innocente. Vedremo come finisce. Posso chiedere solo una cosa, però brevissima a De Magistris. Posso dire una cosa, perché siccome sei una cosa, vabbè, tre cose flash. Una cosa, io voglio essere assolto nel merito e non perché interviene la prescrizione. Secondo, mi sembra curioso che Mastella già sa per quale motivo sono stato condannato, visto che le motivazioni della sentenza non sono ancora note e sono stato sospeso. La terza, se c'è una persona che mi ha fatto del male, era l'allora ministro della giustizia Mastella che ha chiesto il trasferimento, e la quarta, fino a prima di fare Guainotto, Poseidone e Toghe Lucane, 15 anni di magistrato, i miei pareri di tutti i miei capi degli uffici, i consigli giudiziari ero considerato un ottimo magistrato. Quando mi occupavo di droga, estorsioni, criminalità organizzata di tipo tradizionale, spaccio di droga e altro, sono diventato da un giorno all'altro il peggior magistrato di questo mondo, tanto da avere sei anni di ispezioni continue. Questa è la storia e questo me ne tolgo, che a distanza di anni debbo subire. No, mi ringrazio, no, 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 no. È stato il CSM a trasferirlo, non io. È stato il CSM a trasferirlo, non io. Stai dicendo una bugia, è stato il CSM a trasferirlo, non io. È stato il CSM a trasferirlo, non io. È stato il CSM a trasferirlo, non io. Preseduto da Mancino, che è imputato a Palermo nel processo della trattativa trastativa di base. Non parla di me, non degli altri. Parla di me, non degli altri. Parla di te, di quello che sei stato incapace a fare. Va bene. Per fortuna ci sono stati i giudici. allora pubblicità e poi grazie a Dio